Questa è una zona uffici sicuro. Questa è una zona uffici. Questo è il parcheggio esterno del supermercato. Questa è una portineria strana, tipo buia. Ma infatti. Questa è un'enorme questo posto. Che marchio era questo supermercato? E' un'amico. Un'acqua fuori. Un'acqua fuori. Un'acqua fuori. Un'acqua fuori. Un'acqua fuori. Che spavento. Ragazzi... Ti lascio un regalo. Sottocosto. Che bello, tu le vuoi? Sottocosto. Quest'e che non penso mai a volerlo. Sottocosto. Tieni... Amore mio. Che carini che siete. questo è un spogliatoio e che cazzo è? è il magazzino forse ma no 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 con quelle con quelle porte lì ma figurati questo è un magazzino ragazzi no no questo qua era il magazzino guarda sì 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 come? dicevi? ma era minuscolo allora scusa se non c'erano le casse? ma non c'erano le casse però e dove? ma era la macelleria probabilmente non c'erano le casse? non c'erano? ha risotto al posto video sorveglianza c'è davanti a tre spalle oh che figata questa è bellissima ma chi sa perché è un abbandonato è troppo un guarda roba forse questo era più un guarda roba che non un magazzino tutti gli appendini a presto la sala suicidi ah ok adesso andiamo la sala suicidi una luce neanche serve ma quella è la sala server cucu ci sono portati via tranne questo che non so neanche che cazzo sia cosa sono i server erano i server sono solo gli armadi ma anche bello alto quindi qua c'erano tutte le alimentazioni dei vari rack cazzo qua c'è ancora ah no questa è la distribuzione della fibra ma sono cose che dovessero essere manca uno dovessero farle adesso sarebbero molto più piccole no no sono sempre così ah sono sempre così non sono cose con l'evoluzione ma questa non è una cosa tanto vecchia sì 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 a volte su certe cose bastano basta un anno due anni no 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 ma la rete i rack sono per così si non aspetta la mente Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Questo è un archivio E era un archivio Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ah ma qua c'è una finestra Guarda che forse è quello dove eravamo prima Sei sicuro? Guarda che secondo me è lui Ah ok Ah è l'altra parte allora Qui c'è l'altra parte anche del supermercato Sì 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 Sono tutte robe tecniche No Figa ma è un labirinto Ah è proprio uno spogliatore Sì 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 Come? Non ho capito Sì 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 Vedete che arrivo Sì Nooo Sì E' un segno Sì Sì Credibile Ma Sì Sì Ma Sì 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 Ma Sì andiamo di qua, ma c'è una porta chiusa, questa qua guarda, di qua no? no dicevo di là, di là no? sì questi erano tutti spogliatoi, un paio di occhiali qua c'è una porta blindata chiusa, non l'hai vista? ah niente, vanno sotto scala qua c'è il locale della cabina ma questa qua è la cabina elettrica ancora quadri vuoto cucù no, questo probabilmente l'abbiamo costruito sopra a una fabbrica perché questa parte qua, lo vedi le porte, questa roba vecchia questi qua sono i lavatori tipici delle fabbriche anni 60, 70 spettacolo spettacolo si capisce in cazzo si capisce in cazzo, però è particolare infatti qua lo usavano come magazzino per materiali edili qua ci si tenevano le piastrelle, quelle robe di... questo è particolare davvero no, dicevo che questa dovevano averla costruita dove c'era un'altra... ah sì 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 no certo vedi che infatti è da qua che poi l'hanno fatto il cartongesso, insomma qua ci sono delle sca... ragazzi qua c'è un'altra scatola... si? no... ah sì hai ragione cazzo... buona... 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 sta in altra parte di supermercato... si... scusa ma come minchia era fatto questo supermercato? non lo so... ma che cazzo... ma è strano forno... io non vorrei che era tutto unico ma negli ultimi periodi l'abbiano diviso in due... è probabile... a sto punto è probabile... sì ma infatti se guardate qua è messo molto meglio che di là... è in colore diverso... adesso... un fai da te? ma è vero... la grafica non è quella del... ti chiede niente... chiuso per testata attività... però è vero... la grafica non è quella del... chiuso per testata attività... però è vero... la grafica non è quella del... ah... qui c'era l'impianto antifurto... no... l'EVAC... questo qua è il sistema di evacuazione incendi... l'EVAC? però ancora qua eh... ma non lo so... guarda... non ci sto capendo nulla... caffetteria... fior di caffè... qua si sceglie la raga... un'altra volta... facciamo il primo qua perché ero giù... sì... finiamo il... poi c'è tutto il fuori dietro eh... è enorme sto posto... non pensavo fosse così grosso... tu? qui è ancora un altro dietro... non è che può essere il magazzino... perché magari... si è il magazzino di prima... qui c'è il buco nel... si... veramente... comunque se guardate anche la struttura in alto del capannone... è roba vecchia... anni sessanta... questa era una... una fabbrica... qualcosa che hanno... convertito in... in... in Carrefour e sto supeco che non so che cazzo sia... qui... è... qui... facciamo i quadri... dov'è quello? se lo siamo ripersi. siamo nella parte esterna dietro. ah vedi, qua c'era il container refrigerato. porco due! no, questo è un ufficio ancora. ah, logistica. qua non è difficile la logistica. però c'è qualcosa che non mi torna. questa parte perché è recintata che fa sempre parte? sono due cose diverse. ah no? come fai che sono due cose diverse? di là c'è il magazzino di prima. di qua? è un muro nuovo. oh guarda zio, di qua c'è il magazzino di prima. sì sì, io lo so. e quindi... strana sta roba. grazie gente, ma come ci arrivi di là adesso? perché di là c'è altra roba. sì, è lo sposto di prima, però con l'ingresso. ah beh, ma... apri li, non è che ci metti tanto. eh? eh eh. ma proprio... sarebbe il top sarebbe! non c'è stai a pregarmi faccio una patita fanculo ribadisco che è strano sto posto comunque grazie a tutti Qua è dove ricaricavano qualcosa. Grazie per la visione.